Scesa dell'aria! Occhio in alto! Sto completamente spada con un scaricatore a dove guarda Eh? Sti accattando con la tua arma Riescaldamento finito! Adesso si fa sul serio! Sì, come al solito! Vai, c'è dietro! Non ti metto mai! Bilo! Espiralamento finito! Figuriamo a fermare! Oh! Sobretto! Oh, benissimo! Momboko finito! un inferno di gente mi hanno sparato così sono morto siamo già tre sul tetto io devo cambiare sta cacchio di incostruzione ma perché l'hanno cambiato io non lo so che cavolo devo fare adesso io sono comunque sotto l'ospedale adesso la covaccia ti sdraiati qual'era no no tutti gli altri sono uguali hanno cambiato solo quello hanno cambiato ah vabbè ok ho dovuto rimettere il predefinito ho dovuto rimettere vabbè si si no deve rimettere il predefinito ma perché l'hanno cambiato di testa loro ci sono aggiornamenti dei fatti ho trovato un pallone ottimo non capisco l'aggiornamento è di nuovo mi cammini di tasti a me mi cammini di tasto radar personale nemico in volo ha puntato qualcuno mi fa stupire il ricordo io volevo arrivare al riscosto non capisco dove cavolo sono per cavolo mi non lo ammette questo cavolo è il gioco del tavolo sentivo una cassa non sapevo dove andarla a prendere non lo ammette mi hanno segnalato radar personale nemico in volo ha puntato qualcuno mi ricordo che questo doveva andare su internet per un'altra con una cassa molto vabbè ma è il perke mi sce Josh ok ma non ci sono mh vabbè ma ci sono lo so mh mi fai squelto nemmeno se l'ho è il bambino è dove c'è avano il suo mostrato io io che cosa è il bambino è il bambino è il bambino non c'è un bambino il bambino e non c'è è un bambino guarda! da dove? dai dai, non so fuori il bercherolo, guarda no dove sono? mi attaccano! mi cura, mi cura, mi cura no respira, andrà tutto bene ai ai tutto questo è andato di peccato e questo è andato di peccato andarci con l'elicottero no? soltanto qua è tutto ripulito è andato di peccato è andato di peccato è andato di peccato ma io credo che lì non c'era niente Non c'era niente, 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 supporti chiusi, 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 ce la sono da scendere per scendere con la corda Ma volevi dire prima, sto facendo 14 piani a piedi E anche io, ma che ne so che non c'è neanche un piano aperto io E se ci sto già scendendo io, e non chiedi Hai ripartito due secondi prima, non è che hai ripartito un quarto d'ora prima Ma io sono veloce Ah Nell'intra mezzo ti sei fermato che c'è un piano aperto Sì Ciao Vado avanti E sono veloce Sì 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 Cazzo Vedi dove scendiamo? Sì Io me ne vado all'altra parte Sì scemmo e ci vado a 18 soldi Adesso c'è già stato qualcuno, la porta sono aperta Un bus sul bus radar personale nemico in volo ha puntato qualcuno siamo per forza andare a mattare qualcuno dopo aver raggiunto di nuovo da dove si chiama sti 4 soldi che abbiamo si chiama depositare non avevo niente tu c'è palloncino ma vabbia dai 2002 ripartiamo è difficile siamo 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 appagio una quest c'è qualcuno sul tecno ma perchè non mi ha messo le placche? vado a sto cesto ok a terra non c'è più nessuno qui sotto vabbè io vado con le scuole con il cattaranzo 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 eh 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 tu avevo fatto caso che la minetta si buona mano vabbè devi costare la scuola buona mano si o no? no no la ricotta era abbassuto venga se cade lì ci sarà soldato nemico in arrivo il delirio infatti vuoi sperare il delirio delirio puntami dove è caduta che provo a andarla a prendere che tanto io già sto scendendo eh no grazie nemici dell'area il movimento ma sono già preso il delirio fa male è 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 che fa merda ho il fucilazione simpolo vedi se mi puoi indicare lì dove c'è restrazione no non ci arrivo 130 metri guarda come se ne è scappato se vuoi c'è la borsa pronta è chiamata tu si no 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 cazzo cazzo non so se hai visto quanti soldi c'ho adesso occhio che erano due nel veicolo occhio tutto sta da pigione si pure io andiamo ho un pacco lì fuori ma c'è quel non si schianta prima sì siccome sono bravissimo con il paracadute è possibile mai che c'era così poco lì? pure fino a dove me la dovrei fare al piede vabbè mi sento alidi che passeggia per i monti vabbè mi metto qua da parte e aspetto dieci minuti che finisce la partita mi sento potente con la pistolina beh Susanna Claymore si è fatta una passeggiata sarò io il pilota non c'ho di denaro iiii non c'ho di denaro iiii eh comunque mettete in sicurezza il denaro non c'è un deposito il denaro oh si ti voglio ho trovato delle belle notizie merda chi ti viene in giro da sotto chi ti viene in giro chi ti viene in giro non c'è chi ti viene in giro qui chi ti viene in giro si Siamo ammazzati i due che avevano i soldi in mare, spero non riesco a prendere i soldi degli altri Soldato nemico in arrivo! Non posso prendere i soldi Questo nemico in arrivo eh Sì, sono un altro gioco, sono basso Uno a terra Si è ammazzato Ma è uno che continua a sponare qua e secondo me ha lasciato il controller Perché l'avevo ucciso poco fa ed è sponato nella stessa posizione C'hai il pallone? C'hai il pallone? No Perché l'avevo preso i soldi di uno è arrivato a 600 A 200 E io ne ho 296 Cavolo mi sta puntando a mio Siamo sesti in tutto questo Eh sì Ostile in discesa nell'area, occhio in alto Occhio al centro Nemici nell'area Io non vedo niente Sì è vero Sì è vero Certo è vero quello Ma è cattolio Eh Nemico in discesa nell'area operativa Flashbang lanciata Ok Mi è caduto qualcuno vicino È stato tutto il baratto Tu avrei idea, è proprio accanto a te ucciso ma non ho più placche ok ma non ho più tacche non ha più placche problema è che io come come faccio ad arrivare da te stavo scendo io le vacche ho detto sto scendendo pure io lasciami le pacche contenta scende più quello che abbiamo finito di giocare quindi oh ma io trovo l'inteso non ci sono stati pensa che ci sono stati sono stati sono stati sono stati giuditi tutti peccato 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 radar personale nemico in volo soldato nemico in arrivo e vabbè allora dillo che quando mi mette con una medicina mi stoicchino a battito ma sono quinti dai dai che stai il milione l'abbiamo raggiunto 7 uccisioni con un 4 dai buono adesso sono 11 uccisioni in totale 11 uccisioni è più di un milione dobbiamo ok ok sulla dic unità ok ecco 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 ecco